e buongiorno a tutti oggi faccio le pulizie dopo il capo di qualche giorno che siamo stati un po male non è cove però abbiamo preso un po di alfredore un po di febbre anche e niente o la casa piena di polvere praticamente adesso devo pulire un po un po tutto guardate quanto polvere che c'è qui sotto guardate quanto polvere che c'è qui 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 c'è un po guardate quanto polvere che c'è qui 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 guardate quanto polvere che c'è qui 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 c'è Grazie a tutti. 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 Eccoci qua, tutto da polvere. C'è rimasto un pezzettino anche di un'altra volta, però ce ne è un bel po'. Allora, oggi mi concentro sui pavimenti più che altro, vuole disinfettare un po' tutto. Ah, già che ci siamo in bagno, adesso mi è venuto in mente, aspettate un attimo. Allora, 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 allora intanto mi avete chiesto come ho le scopo in bagno, io le ho messi così, i cancini me li ha fatti Andrea, avevo già fatto vedere un altro video, però qualcuno, se vedi che si è mai nuovo iscritto non l'ha visto e così. Io vi consiglio, io vi consiglio. guardate io se forse vuoi prendere una cosa del genere tipo una cosa così o sennò questa qua questa qua ad esempio costa 16,99 c'è i gancini qua e poi dopo potete mettere anche le scopole dentro per dire vabbè costa anche quattro euro di spedizione però con 20 euro avete una cosa fatta un po più a modo ecco non è una pubblicità all'amazon però se fosse da sola a casa che non ho nessuno che mi può fare un lavoro del genere farei così io ecco anche perché quel lavoro lì sì va bene perché ce l'ho così però se no avrei preso proprio una cosa del genere ecco intanto mi riparo il secchio ci metto un po di questa cosa qua mi piace gentile questa non mi dispiace perché non si sente tantissimo la candeggina ecco poi anche c'è un po di scuma ci metto un goccino così disinfetto anche tutti tutti i pavimenti ecco pulisco qualche mobiletto visto che è un'altra volta l'ho comprato questa qua un igienizzante secondo me è proprio perfetto per questo periodo qua sembra che lo sapevo ecco sembra che lo sapessi che che misti che mi serviva ecco lo proviamo adesso proviamo insieme come va anche sul legno ecco se qualcuno si è perso un altro video ma anche sul legno allora lo proviamo ah ma spruzza così ragazzi no spruzza solo così beh così non spruzza non spruzza giro non spruzza non eccoci qua guardate quanto è sporco devo riprendere la storia polvere perché ho visto che c'è tutta la polvere anche qua ragazze guardate quanto polvere che c'era e tutti i peli di orso bruno eccoci qua 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 Sì Grazie per la visione! C'è un po' di acqua. La ricetta Deve LED E il il rindato Il risultato Il rindato Il rindato Il rindato C'è un po' di acqua. C'è un po' di acqua. La vasca è abbastanza pulita, la lona non lascio così. Alla prossima. 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 Alla prossima.